Salve a tutti i mici di internet, io sono Zedemol Corvino e... Jack, ciao! Per la prima volta siamo su Minecraft Ah, ciao, ciao Perché? È da bel po' che non... Ok, vabbè Oggi, questo posto sarà il Monte Corona, anche se... Aspetta, sì, Jackie Sì? Jackie Aspetta, prima devo andare di qua Ah, giusto Qua, qua, di qua Qua ci sono le nostre case, vieni Dove sei? Jack? Qua Non ti vedo? Ah, eccoti Eh, non è mai giocato a Minecraft È la prima volta? Zedemol Ok, non dovevo craftare, no Quello cos'è? È un micetto, ciao, bello Dai, vieni, vieni Va verso... Va verso l'igloo Vabbè, ti vengo a prendere io Eh, non sei ancora diventato in questo villaggio Qua, sono qui Girati What the fuck? Eccoti Vieni, vai Vabbè, ti stavo trollando Eh, certo, come va Mi dai forza Mi ami, vabbè Questa è casa mia Guardate quanto figa la casa di Jack Fatto con il mio stemma Oddio Oddio Ah, signor Golem, come va? Buongiorno Ok, direi di lasciarlo stare No, non a dare sul mio cane Vabbè Ma il cane è qua Ciao, bello Allora, questo è il mio cane, ragazzi Come lo chiami? Ah, non lo so E... Tu in casa ti salto sul letto Eh, non è... Ti salto sul letto Stavo... Non credo il mio cane, signore Ti salto sul letto Tu hai anche cambiato il colore, eh Del letto Ah, è vero? Sì Tu cosa vuoi? Via L'ho già da casa nostra Non mi sembra che mi piace casa Ma vabbè Oddio Ho fatto un casino Ecco Che vuoi, signor Golem Puoi anche andare? Ecco Aspetta, piccolo Adesso ti do Ok, basta, ragazzi Oh, oh Cos'è stato? Eh, sta facendo mal Su questo lore Ma se ne può andare il piano? Allora, questa è casa mia Chi ha che ha... Ma il figlio ha fatto un fratto Vabbè Allora Questa è casa mia E... Pensavamo di andare Su un monte corona Per... Non fare entrare la gente Stosso Allora, adesso vi faccio vedere il monte corona Appena posso Ok Questo è un campanello Vabbè Dove sei, Jackie? Sì, qua L'ho trovato io E credo che sia molto il monte corona A meno che Federico Non ci dà le coordinate Ma vabbè Ok, forse dobbiamo volare Dove sei? Sono qua Ok, ti vedo, ti vedo, ti vedo Stiamo tornando la notte Vediamo un po' tra lontano No, forse dobbiamo tornare nel villaggio Perché 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 c'è un orto? Ok, io ci sono Ok, a posto Di gioia Una... Oh, bravo Hai dormito Adesso aspettiamo che Arrivi la notte per dormire E sperare che non arrivi uno quei villaggi Ah no Che ho affrontato male io Mi dormire solo di notte Aspettiamo che venga la notte Adesso bene Che Dove dormire solo di notte Che palle Ah, lascio Dai, andiamo Eh, ci vuole sempre un pochino Ecco Si può dormire Dormo con la spada, rega Eh, buongiorno Già che ho detto Ok, aspetta Prima devo Oddio, no La fornace, no Dai Che palle Ok Dovremmo venire Già che a prendermi Adesso guardo cosa c'è dentro la fornace Ho un bel po' di materiali Ah, ciao Ciao Adesso Arrivi Eh, un attimo Cazzo Va bene, arrivo Va bene Oddio, il cane Eh, bello Un attimo solo cucciolo Basta, vai a mangiare Dai Va bene, va bene Andiamo, andiamo Perché Ho visto che Da Federic 95ida C'era il Monte Corona Quindi Aia Arvolica Perì Vabbè È lontananza Non vedo neanche l'armatura Però Chi Chi Siete Molte farone Eh, io Poi dovremmo chiamare Archeus Aia Aia La faccia Vabbè C'è l'odore di bruciato Rega Voi lo sentite Vabbè Probabilmente Allora Scendo Con questi materiali Anch'io ce l'ho Volevo ricostruire La statua di Archeus Per il suo onore E di te Aia Il gioccagno Dai, è un bel po' C'è vero Beh, sì Però Forse Sarebbe stata meglio Mettere le coordinate Della Monte Corona Vabbè Se vuoi Che possiamo Facci una serie Su Minecraft Allora Questo è un blocco D'oro Tra l'altro Questo credo Che sia verde Sì Allora Useremo in tutto Quattro Cinque blocchi L'oro Il bianco Sì Perché Aiaio Ma il rosso Va sugli occhi E anche Il grigio Aia Cosa diceva Corrina Jack Ma il rosso Va sugli occhi Non Lo so Allora Fa vedere Hai sistemato Tramite Questi sono Le quattro colori Ah è vero Che le stai Le stai giusto Trollando È vero Perché Per fare lo gioco Lo si vorrà Un pochino Perché Archeos Ha uno gioco Talmente Grande Mi do molto Come hai fatto Fare quella mod Eh Io Faccio Trocchetti No Però L'idea Servisse Da geniale Se avessi avuto Quella moda Anch'io Dove c'era Archeos Vabbè Comunque Scrivete Se volete Anche Episodio Di Minecraft Mi vibra Il telefono Sempre Cavolo Ok Ce l'ho fatta Ok Scrivete Se volete Vedere La costruzione Di qualcosa O delle sfide Per esempio Base di Rattina contro Quella di Archeos Fate quel che vi pare Ma basta che ci sono In tutto Cinque commenti Un mi piace E in onore In onore di Signore Archeos Lasciate Cinque like Dove corri Ah sono qui Dove sei Perché ti voli Vabbè Chiamalo Tu però E come faccio Come faccio A chiamarlo Ah ok Prendo il flotto Di sedia Però prima riparo Un po' il monte Che è un po' rotto Tu lì Sì perché Hai fatto un Casino inferiore Della miseria Certo Come no Io un tanto Vado a fare Guardo Tra l'altro Il Monte Corona È bellissimo Ecco il flotto Di sedia Dove sei? Ecco Ma quella Una stecca Il flotto Di sedia Aia Non è così La velocità Aia Ok Basta Ok Posso vedere Che cosa dobbiamo fare Su Minecraft E noi forse Cercheremo di farlo Intanto Aia Vado nel Villaggio Perché È un Ok Un orto Perché Beh il viaggio Guarda che Così Stiamo dentro No No Jack No Dai Jack Dai Vola Aspetta Vola vai Forza No Non mi chiudere Ecco Chiudiamo Chiudiamo Ci ricalivendo Ecco Stai facendo Non si fanno Le cose Villagri Ma vabbè Questo era il video Di Minecraft Si Quasi Quasi Spaccherai Sto cosa Però Mi diverto Ok Questo era il Il video Che cosa dobbiamo fare Su Minecraft Basta Che era Buongiorno Ti sto trollando Vabbè Oh Ho trovato la casa Ottimo Ok Questo è Il nostro Villaggio Qui vedete Cosa Dobbiamo fare Su Minecraft A proposito Vediamo Com'è la casa Di Jack Attualmente ci siamo Appena trasferiti Non so Ti brucio La casa No Dai Allora Dovrò dare un nome A questo cane Maspredi Allora Di concordare L'episodio Ok Bello Saluta Youtube Ma bravo Che saluti Youtube Bravo Bravo No Credo che si saluti Così Proprio Youtube Ciao Ciao E Dove vado Ciao 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 Ciao